l'incidente in corso dante ieri martedì 26 febbraio intorno alle 18 coinvolti un alfa 147 uno scooter onda il cui conducente un ragazzo per evitare l'impatto con la vettura è caduto a terra sul posto sono prontamente intervenuti il 118 e gli agenti della polizia locale il conducente che subito sembrava grave è stato trasportato all'ospedale cto stabilizzato non è in pericolo di vita ha certamente in corso grazie